Bianco, gol, gol Bianco, Grilli, Vignati, Dossi, Rizzon, Brambilla, Cambiraghi, Garavelli e Cervi Il Brescia schiera fra gli unici titolari Machitelli, Nasuti, Dada, Zizioli, Carlson, Prost, Tarenzi, Alborghietti, Sabatino, Girelli e Costi A disposizione dell'allenatrice Bertolini, Cesar, Bottin, Rosucci, Zanoletti, Bonansea, Cernoia e Linari Arbitro dell'incontro il signor Alessandro Di Graci di Como Perle palla mozzanica, Girelli per Tarenzi, Tarenzi tiene palla, riesce a trovare Alborghietti che prova il tiro Respinta di Gritti, è incredibile Cerca e trova Nasuti, lancio lungo di Nasuti per Girelli Girelli affrontata da Schiavi, Girelli va via, Girelli bene, prova al sinistro Girelli Dalborghietti per Girelli, Girelli si gira, si dà un'occhiata intorno, prova il lancio in avanti per Sabatino Che riesce a girarsi, ora Prost, prende il pallone, prova il tiro Pallone dentro di Girelli, Girelli, pallone arriva ad Alborghietti, ora in avanti per Nasuti Vince il contrasto Tarenzi, arriva anche Girelli a dare manforte, Girelli si gira Cerca di guadagnare il fondo Girelli, ci riesce, non riesce a mettere il pallone dentro E attenzione, attenzione, c'è il calcio di rigore Girelli contro Gritti, parte Girelli Rete, rete di Girelli, Girelli spiazza Gritti e segna l'1-0 il vantaggio del Brescia Vantaggio importantissimo, 45esimo minuto e Brescia in vantaggio Pallone in mezzo, cerca di spizzare, bellissimo colpo di testa di Sabatino Nella in avanti, Moson, spizza bene, Stracchi allarga sulla sinistra Giacinti, Inara, Inara, Giacinti, sinistro, Marchitelli, Marchitelli Arriva il pallone a Giacinti, attenzione, che pericolo Bonansea, Bonansea si gira, guadagna diversi metri Bonansea Prova col destro Nasuti prova ad allagare il gioco, scatta Alborghetti, scatta Alborghetti Alborghetti, Inara, Alborghetti, in destro, Gritti Gritti impedisce ad Alborghetti il raddoppio Pianco Duggo Pianco Duggo